Vice Sindaco Fiocchi, parte importante dell'attività quotidiana del Comune di San Giacomo ricade sulle sue spalle vista la concomitanza dell'impegno istituzionale del Senatore Costanzo Della Porta. Oggi un duplice momento di riconoscimento del sacrificio compiuto da cittadini di San Giacomo durante la Prima Guerra Mondiale e il completamento di un polo scolastico che guarda verso il futuro. Sì, buongiorno. Oggi siamo qui a San Giacomo gli schiavoni per commemorare i nostri concittadini che sono caduti durante la guerra del 15-18. È un evento molto importante per noi perché ci teniamo, in concomitanza con il Ministero della Difesa, ci hanno devoluto questo riconoscimento per i nostri caduti. Nello stesso tempo oggi è una cosa molto bella perché inauguriamo anche la parte della scuola, il secondo lotto per i nostri bimbi che avranno più spazi. È una scuola molto sicura, diciamo, per i terremoti, per tutto quanto. Niente, che devo dire? I bambini oggi saranno qui con noi a festeggiare questo evento, commemorazione di questi tre caduti per la guerra. Speriamo che tutto vada bene. Sono contento che c'è stata una grossa partecipazione da parte, diciamo, di tutte le forze e polizia. Diciamo, anche il Ministero ha inviato parecchi soldati. Un ringraziamento anche al colonnello che è qui presente e ci rappresenta. Grazie. Grazie.